Noi c'è Michele Altomeni e Dimitri Tinti, il sindaco. Michele fa parte del consorzio eticale e collabori con i comuni. In che ruolo collabori con i comuni? Noi siamo un consorzio di cooperative sociali che da alcuni anni sta collaborando con amministrazioni pubbliche, in particolare con i comuni e un po' di tutte le marche, per promuovere progetti sulla sostenibilità ambientale, che vanno dalla riduzione dei rifiuti, al risparmio energetico, all'utilizzo dell'acqua di rubinetto invece che dell'acqua in bottiglia, il biologico, il commercio ecosolidale, una vasta gamma di progetti. Siamo qua a Sant'Ippolito dove abbiamo avuto la possibilità di realizzare diversi di questi progetti. È stato anche un vero piacere perché in qualche modo Sant'Ippolito diventa un modellino di comune che senza investire grandi risorse può fare invece grandi cose. Dimitri, allora la collaborazione con Eticare ci porta allo spettacolo di oggi, all'inaugurazione della casetta dell'acqua? Sì, tante iniziative in poco tempo. Sì, come diceva Michele, siamo anche noi orgogliosi come comune abbiamo accolto queste proposte, queste iniziative che si summano alle altre che già abbiamo portato avanti come la raccolta differenziata porta a porta o altri progetti relativi sempre a interventi sostenibili. Però ecco, in particolare queste ultime che abbiamo fatto con il consorzio Eticare verranno presentate questa sera prima dello spettacolo e attraverso anche un opuscolo che verrà distribuito a tutti i partecipanti e poi a tutti i cittadini e tutte le famiglie. E lo spettacolo è la conclusione di questo progetto anche in un modo diciamo meno convenzionale cioè solitamente si conclude con un convegno, noi abbiamo deciso invece di concludere con uno spettacolo teatrale, semiserio che è anche utile, informativo e coinvolge di più sicuramente rispetto a iniziative classiche. Infatti Massimiliano Martini prima diceva che è un diverso approccio con la gente che magari non vanno di solito ai convegni e preferiscono vedere queste cose un pochino, imparare anche in questo modo. Sì, in effetti appunto io l'ho già visto in altri comuni, è uno spettacolo che coinvolge e allo stesso tempo sensibilizza, informa su questi temi, sui temi ecosostenibili. Quindi ecco non poteva essere l'occasione migliore per presentare quello che si è fatto dalla casetta dell'acqua, risparmio energetico, qualificanti che fanno, io lo dico anche con orgoglio lo diceva prima Michele, di Sant'Ippolito un po' un modellino. Bene, allora ringraziamo Michele, ringraziamo Dimitri. Grazie a tutti.